ma buon dia a tutti amici di doppia frizione non so se si vede bene ma va bene così oggi facciamo una reaction a omar ok metterò il suo instagram qua sotto andatelo a seguire tutti ok e niente allora ti dico di aprire la porta e mettere un piede giù come di consueto tutti metti un piede giù poi ti dico non c'è un po di tremorio ok allora cintura sempre e comunque la te la camera a omar e si parte allora quindi oggi ci sono tipo 32 gradi e roba del genere quindi stiamo a morì ok abbiamo trovato anche altre persone bene pronto No, che poi ci andiamo a schietare Questa la dovevo censurare un botto Dai che ho messo anche i freni nuovi Cazzo Dio vai piano bastardo No, basta, non voglio uscire Voglio uscire Ci chiamo il bambino Ma questo qui l'abbiamo beccato prima Ciao zio Quindi, prime impressioni Dai, facciamo E' ancora fredda la macchina E' ancora fredda E' ancora abbastanza fredda Penso si è già finita Eh no, manca ancora un piccolo pezzettino Appariamoci Salve signore Signore in moto No, c'è una macchina davanti Ma che purità c'è La superiamo Non faccio a casa noi Questa è la prova di Morelli Se lo vuoi sapere Quindi ho la sua memoria Non c'è che andare Mi scrive Wow, parte del culo Se sentite un rumore di vetri E' perchè dietro ho dei Pino? No, ho delle bottiglie di vetro E quindi Non bevete mentre guidate O non bevete prima di guidare Oppure bevete ma non guidate E' giusto Salve signora Così si fa Se sentite un palancato Oh, bastardo Quello signore Porco mia Scusa 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 Questa è mi piace molto Anche a me La gente che avvora Salve 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 Scusa 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 Ah come puoi vedere non c'è nemmeno l'autoradio perché rimbomba così tanto che non servirebbe neanche Ce l'abbiamo fatta Siamo ritornati vivi Non arriverai mai più in giro con me Beh adesso capisci almeno quanto puoi andare forte No la polvere Ti ringrazio No la polvere Tutto ciò è stato un onore Mi dileguo Ragazzi è stato bello Questo è Roman Ci vediamo al prossimo video